Il calcolo di quanti incideranno in termini di costo per un nucleo familiare composto da quattro componenti, gli aumenti deliberati dalla commissione insediata sia a Palazzo San Giorgio, ammonterà per un appartamento medio per la Tarso da 210 a 336 euro, per il canone acqua da 240 a 552 euro, per un totale complessivo anno di euro 438. Una notizia, quella degli aumenti di Tarso e canone acqua rispettivamente del 60 e 130 per cento di quelle che lasciano davvero essere fatti, così Saverio Cuoco, presidente regionale dell'Unione Nazionale Consumatori, in merito a quanto disposto dal Comune di Reggio Calabria. E così mentre la triade commissariale in queste ore sta decidendo se dichiarare o meno il dissesto finanziario dell'ente, molti cittadini in mobilità, casi integrati, disoccupati, pensionati al minimo in attesa degli emolumenti stipendiali non percepiti, nonostante le prestazioni lavorative rese, lo hanno già dichiarato. In merito agli aumenti deliberati, ricorda Cuoco, pochi giorni addietro, avevamo ribadito che ogni tassa viene corrisposta per un servizio fornito, pertanto, se esso non viene erogato, si è il diritto da parte dei cittadini a contestare quanto richiesto trattandosi di una mera imposizione senza alcuna prestazione resa da parte delle istituzioni. E quanto accade sia con la Tarso che con il canone acqua, e cioè a fronte di due servizi che latitano da parecchio tempo, ne viene chiesto il pagamento con gli ulteriori aumenti deliberati, gravando con un'imposizione di circa il 90% della misura massima tassabile. Nello specifico, la Tarso, oltre ad aver subito già un aumento ad opera della precedente giunta comunale nell'agosto del 2011, hanno avuto un disservizio nella raccolta rifiuti che si prolunga d'oltre un anno, mentre nessun provvedimento è stato intrapreso per adeguare a ribasso le tariffe, così come fatto in altri comuni, nonostante i cittadini abbiano diligentemente eseguito la raccolta differenziata. Non meno allarmante, anzi più gravosa è la situazione riguardante il canone acqua, poiché è ben nota a tutti da anni la pessima qualità di gran parte dell'acqua erogata al Reggio, viene diventato comprensorio del comune della cronica carenza idrica.